bentornato goodler bentornata in questa fine decade parliamo di aggiornamenti facciamo il punto della situazione con una lezione chiarificatrice su windows 10 credo ti sia reso conto di si è reso conto della politica di gestione della macrosoft con il loro sistema operativo windows 10 dalla sua prima uscita il 29 luglio 2015 oltre agli aggiornamenti classici di sicurezza che comprendono miglioramenti funzionalità eliminazione dei bug ha avuto importanti aggiornamenti inglesi e chiamati update che sono stati corposi in termini di peso e funzionalità i classici normali e frequenti aggiornamenti vengono rilasciati grazie a una funzionalità integrata in windows update all'interno proprio del sistema operativo ed hanno un peso da pochi kilobyte fino a qualche centinaio di megabyte quelli di cui parlo in questa lezione invece forniscono un cambio sostanziale al sistema operativo equiparabili al rinnovo dello stesso sia in termini di interfaccia che in termini di funzionalità in parole molto semplici è come se ottenessi un nuovo sistema operativo cosa che per il momento la microsoft non intende attuare in sequenza abbiamo ottenuto i corposi aggiornamenti a novembre 2015 abbiamo avuto l'aggiornamento update con versione 15 11 ad agosto 2016 è stata rilasciata la versione anniversary update con versione 16 07 ad aprile 2017 è stata la volta di creators update con versione 17 03 e ultimamente ad ottobre abbiamo avuto il rilascio di full creators update con versione 17 09 a prescindere da dove ti sei piazzato di sei piazzata nell'acquisto di un computer o di un notebook con windows 10 installato o dove ha intercettato la qui presente guida al computer il risultato finale comunque sarà che con tempi variabili avrai sempre l'ultima release che l'azienda ha rilasciato oppure rilascerà in futuro questo perché ha integrato anche questo tipo di aggiornamenti così corposi all'interno di windows update e quindi tutto avviene in maniera automatica come fosse un classico aggiornamento di sicurezza de facto non dovrai preoccuparti o cervellati nel procurarti o dover installare questi corposi aggiornamenti proprio perché avvengono in automatico e in maniera quasi nascosta la quantità dei dati però che scaricheranno saranno molto diversi in quanto avremo dell'ordine dei gigabyte attenzione quindi a fornire una connessione flat al tuo dispositivo perché se avessi una connessione a consumo ti scaricherebbe tutta la quantità di dati disponibili magari per il mese e soprattutto potresti andare incontro a costi importanti nel caso in cui il tuo dispositivo invece è collegato ad una rete cablata o wireless di tipo flat non avrai questi problemi in caso contrario dovrai impostare la connessione wifi a consumo nelle impostazioni di windows 10 proprio per evitare sorprese infatti se collegherai il dispositivo ad una connessione wifi avrai nella zona delle impostazioni di windows update questa sezione relativa alle funzionalità wifi e dovrai semplicemente attivare questo cursore per evitare che il tuo dispositivo succhi enormi risorse in termini di traffico dati tornando alla descrizione quando scrivo è in essere la versione full creators update con wilt 16 299 per scoprire se hai l'ultima versione sarà sufficiente avviare programma esegui e digitare nel campo dedicato la parola windows version e poi cliccare su ok oppure premere il tasto invio avrai una schermata che ti presenterà l'ultima release che è installata se ancora non hai subito l'aggiornamento al momento del rilascio è semplicemente perché la microsoft per non appesantire sentire i suoi server spalma su un medio periodo il download alla nuova versione per tutte le macchine che hanno installate windows 10 in più se non te ne fossi accorto te fossi accorta c'è un'impostazione attiva di fabbrica che permette di condividere la tua banner risorse per consentire il download di computer ad altre persone e lo noterai in questa sezione una sorta di peer to peer che ti permetterà di usufruire delle tue risorse per poter scaricare gli aggiornamenti io personalmente ho disattivato questa funzionalità se naturalmente sei all'interno di una ristretta rete in termini di dispositivi potresti anche lasciarla abilitata ma se il numero di dispositivi è ampio fai attenzione per non avere brutte sorprese considera anche quest'altro piccolo problema dato che l'aggiornamento è corposo la sua installazione richiederà del tempo di norma molti minuti questo comporta che fin tanto che sei al pc non noterai nulla anche nell'utilizzo ma quando il sistema è pronto per l'installazione ti chiederà il permesso di avviare l'installazione da quel momento il computer si riavvierà in automatico diverse volte e al termine quasi dell'installazione dovrai dare un minimo di assistenza con qualche click o selezione necessaria in queste ultime release la microsoft anche ci allieta della funzionalità di cortana che ci aiuta a terminare l'installazione delle ultime release quindi una lieta e piacevole sorpresa che ti aiuterà anche se non sei molto esperto o molto esperta l'assistenza che dovrei dare è perché l'installazione vera e propria è come quella che ti ho descritto in questi anni quindi qualche click è necessario la durata della sua installazione impiega attorno alla mezz'oretta o giù di lì dipende anche dalle tue risorse hardware più naturalmente il tempo del download che sarà variabile in base sempre alle tue disponibilità di risorse hardware e di banda per cui se stai per andare a letto o devi uscire è bene lì da dare l'aggiornamento magari pianificandolo in base alle tue necessità come potrai farlo al termine quando il sistema è pronto per l'installazione potrai decidere di impostare un riavvio per l'installazione da questa sezione selezionando l'orario che più ti conviene se vorrai potrai anche percorrere una strada alternativa che ti permetterà immediatamente di ottenere l'aggiornamento subito dopo il rilascio potrai infatti agire in questo caso in via manuale dovrai sempre regarti nella pagina dedicata della microsoft e cliccare sui pulsanti aggiorna ora per avviare il download e successivamente l'installazione dell'aggiornamento oppure se vorrai scaricati il classico strumento di assistenza che la microsoft ci mette a disposizione che non solo ti aiuterà per il download e l'installazione ma ti consentirà anche di installare creare un supporto di installazione dvd o usb che sia ma da almeno 8 gb di capienza per impiegarlo anche su tutti i dispositivi che vorrai questa quindi un'ottima strada percorribile e in tal unicasi ideale in esso potrai scaricare addirittura le due versioni a 32 e 64 bit e le varie edizioni che la microsoft rilascerà ma attenzione ricorda che potrai solo aggiornare la tua stessa edizione perché se vorrai cambiare dovrai riacquistare la licenza durante l'installazione potrai decidere se eseguire un'installazione pulita rimuovendo tutti i programmi impostazioni e file nella cartella del sistema operativo oppure mantenere tali file e programmi in quest'ultimo caso dopo l'installazione però dovrai rimuovere la cartella dove verrà spostata la vecchia versione del sistema operativo che è chiamata windows hold anche questo già descritto nelle precedenti lezioni questo per non saturare il tuo disco rigido rimuovendo questa cartella però non potrai tornare alla versione precedente di windows che di norma dura comunque qualche giorno ma tanto comunque non serve quindi cancella pure questa cartella controlla anche lo stato di attivazione una volta che il dispositivo ha avuto accesso internet qualora non fosse attivo procedi cliccando sul pulsante dedicato per concludere questa lezione ti ricordo che il modus operandi nei due casi comunque ricalca le elezioni precedentemente trattate per windows update o per i vari passaggi ai nuovi sistemi operativi ovviamente ci potranno e ci saranno delle piccole differenze ma ormai gutier credo che tu non abbia più la necessità di un'assistenza passo passo e soprattutto in video almeno per queste operazioni di installazione o sbaglio bene nella prossima lezione continueremo a dare informazioni per l'ultima release di windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da regalo e dalla prossima